Alla fine l'incubo di un tris di giostre a tre è stato scongiurato. Il quartiere di Porta Santo Spirito correrà giostra ma non con i suoi cavalli perché come sappiamo sono in quarantena dopo che è stata riscontrata su uno dei 19 soggetti l'anemia infettiva. Dopo l'ipotesi di chiedere una deroga al ministero il consiglio direttivo del quartiere della Colombina ha deciso di percorrere un'altra strada. Ha così rinunciato alla richiesta di deroga e correrà comunque giostra con altri cavalli. È stato in merito diramato un comunicato stampa che leggiamo testualmente. Il quartiere dopo giorni di frenetico e incessante lavoro ha deciso di soprassedere dal chiedere alle autorità competenti la deroga necessaria per poter prendere parte all'imminente giostra di giugno con i cavalli titolari risultati negativi a qualsiasi test ma comunque sottoposti al divieto di movimentazione. Nonostante permanga la convinzione che la medesima deroga sarebbe stata possibile ed attuabile essendo espressamente prevista dalla normativa in vigore, riteniamo, dicono dalle quartiere, che la decisione presa sia sotto più profili la migliore per il quartiere, per la manifestazione e per la città. Questo è il momento in cui tutti rivolgono i propri sforzi e le proprie energie nell'unico comune interesse, correr giostra. Qualsiasi altra discussione o polemica così a ridosso della manifestazione distoglierebbe inutilmente da questo obiettivo il quartiere, le istituzioni e i nostri avversari. Con l'occasione, si conclude il comunicato stampa, vogliamo confermare ai nostri quartieristi e alla città che grazie ad un indescrivibile sforzo di più persone siamo riusciti ad individuare alcuni cavalli sui quali stiamo già lavorando e continueremo a farlo nei prossimi giorni, così da poter correre giostra con le ambizioni di sempre, certi delle capacità dei nostri giostratori di adattarsi con successo a qualsiasi situazione la sorte ci ponga. Archiviato comunque il pericolo di una giostra A3, la notizia della positività di un cavallo del quartiere di Porta Santo Spirito all'anemia e infettiva ha creato un po' di panico. Ecco perché l'azienda sanitaria ASL Toscana del Sud ha scelto di mettere a disposizione dei cittadini, soprattutto dei proprietari di Equini, un numero di telefono a cui chiedere informazioni. È lo 0575 25 59 72.